Ciao ragazzi e ben ritrovati in questo nuovo video, io sono Fabrizio e sulla fiducia vi chiedo già subito un pollice in su iscrivetevi al canale e poi a fine video lasciate un commento ragazzi quest'oggi parliamo di una pedaliera, la pedaliera della ConSpit, la CPP Lite e devo ringraziare assolutamente i ragazzi di TZ Sim Project per avermi dato questa opportunità di testare questa pedaliera nuovissima ragazzi come si presenta la ConSpit, come si presenta la CPP Lite, intanto ricevete un pacco enorme con questo colore lucido di predominanza viola che vi fa presagire a quello che sarà appunto l'apertura del cartone vi troverete subito con una scheda tecnica lucida da laboratorio, quella da attaccare al muro con le prime istruzioni di come fare l'unboxing avrete un paio di guanti a disposizione e tutta la strumentazione necessaria per il montaggio della pedaliera troverete tre pedali in un involucro di schiuma ultra resistente agli urti e ovviamente la base di appoggio su cui fissare i pedali la prima cosa che mi aveva un po' fatto storcere il naso era la scelta di utilizzare una base di appoggio e di fissaggio dei pedali in plastica ovviamente non stiamo parlando di una plastica della Kiko, non è Pongo, stiamo parlando di una plastica di altissimo livello segnalo, dico ragazzi, ma in plastica e due giorni dopo la risposta di ConSpit base per pedaliera in alluminio quindi ve ne parlo perché comunque è un accessorio che secondo me sarà sempre disponibile, è una questione anche economica però sappiate che è già presente la versione in alluminio, cioè l'hanno annunciato due giorni fa come dicevo la base è strutturata in modo tale da avere un design in modo tale che ci sia tutta la gestione dei cavi che possa passare sotto e quindi diventare avere un management dei cavi in modo davvero ben studiato sulla base dove si fissano i pedali ci sono una miriade di fori preforati ovviamente con dei gommini per evitare così di avere la costellazione sulla base di appoggio dei vostri pedali e ce ne sono talmente tanti che avete veramente un'ampia scelta per posizionare i vostri pedali come meglio vi aggrada la parte invece di appoggio c'è un battitacco per l'appoggio dei talloni che vi dà questo appoggio supplementare e quindi evita vari scivolamenti e spostamenti la base presenta sotto una parte incava in cui è presente la centralina e questa forma proprio dà una sicurezza, una protezione in più in cui vengono collegati i cavi che sono ovviamente i tre pedali più tre canali per il feedback aptico perché è prevista anche da un feedback aptico questa pedaliera ovviamente la porta usb principale e anche l'alimentazione la parte sotto invece l'appoggio dei pedali più i piedi del pilota è presente anche una struttura, uno scheletro in alluminio in cui passano i cavi si evita di far penzolare i cavi e in più questa struttura rinforza anche la resistenza di questa base in plastica sembra un po' un controsenso fare uno scheletro per rinforzare perché non l'hanno fatto subito? Penso che è proprio una questione economica ragazzi vediamo la parte più interessante ovviamente che sono i pedali i pedali si presentano con una lega anodizzata di colore nero delle parti ben studiate a livello visivo anodizzato di colore viola la scelta dei colori è pazzesca, si sposa benissimo ma quello che mi colpisce è la precisione dell'esecuzione della verniciatura non c'è una sbavatura, c'è questa lucidità soprattutto nel viola che è veramente pazzesca a me fa veramente impazzire questa colorazione e il tutto ha un'armonia pazzesca a livello proprio visivo quindi un plauso veramente per la scelta a livello di design e una pedaliera veramente molto bella la lega con il quale sono fatti i pedali è una T6 cioè che è stata trattata con un processo di invecchiamento artificiale in quale si gioca con le temperature, adesso non entro nei dettagli di queste cose qua però è un trattamento che allunga la resistenza, la durezza e quindi la longevità del materiale quindi anche in questo si sono spinti oltre ovviamente i tagli sono in CNC numerico e sono stati talmente precisi che adesso vi spiego una cosa avete presente il perno per far configurare il pedale del freno dell'acceleratore in modo tale che sia più duro, più morbido bene, quello lì quando lo togliete per rimetterlo ci mettete cioè se non siete allineati e coperti come i militari e guardate al micron non passa e questo denota ancora una volta l'essere maniacale di conspit per cercare di trovare la precisione massima dei componenti e oltretutto anche il meno gioco possibile cioè io ne ho avuto i pedaliere che si regolano così cioè io al volo toglievo il perno, mettevo e via non mi sono mai messo lì a vedere il gioco però qui non ce n'è è una parte amovibile che diventa parte unica tra la parte meccanica posteriore del freno o dell'acceleratore con la struttura del pedale stesso è incredibile mamma mia hanno spinto veramente la cosa vi assicuro è complicatissimo da rimettere ma proprio perché diventa un corpo unico bravi parlavo della possibilità di configurare anche il posizionamento dei pedali e queste possono essere inclinate da 0 a 15 gradi per poter simulare tutte le categorie di auto di auto che ci sono in giro dalla formula alla macchina comune infatti il freno e l'acceleratore presentano questi famosi perni che vi ho parlato su quattro posizioni la prima conspit dichiara che serve per simulare una formula la seconda le gt3 la terza le auto da corsa racing e la quarta posizione più leggera per le auto comuni i pedali ovviamente presentano come vi dicevo un sistema di feedback aptico che sono dei cilindri posizionati dietro i pedali è innovativo perché questi cilindri in realtà hanno tre funzionalità la prima è ovviamente estetica perché è un conto è vedere un rotore libero nell'aria è un conto vederlo in un cilindro con la parte del cappuccio semitrasparente che ti fa vedere il movimento e che si integra benissimo con il design completo della pedaliera secondo di protezione e terzo di amplificazione di quello che è la vibrazione perché sappiamo che questo tipo di feedback aptico se non ha una potenza soprattutto al piede e se tu utilizzi delle scarpe se non ha una potenza adeguata non lo senti possono migliorare l'esperienza di guida e in alcuni casi anche aiutare vi spiego rapidamente se imposto ad esempio l'attivazione del TCS del traction control o dell'ABS posso rendermi conto se sto esagerando in frenata e quindi posso correggere se ho questa sensibilità lo slip angle ad esempio se la macchina sta partendo di culo posso anticipare un po' come fanno i led del Fanatec quando sono in bianco così vuol dire che ti stanno slittando le gomme quindi sono delle informazioni in più per cambiare il tuo comportamento in pista ovviamente bisogna avere una sensibilità pazzesca però comunque è figo ragazzi che vi trem il pedale e lo sentite soprattutto per quanto riguarda la gestione della frizione perché qui siamo a un livello pazzesco la gestione della simulazione della frizione è una delle migliori in assoluto e la parte aptica aiuta tantissimo la parte meccanica la gestione quindi della parte della MDVF quindi la parte di vibrazione aptica come vi dicevo ovviamente è gestito dal software proprietario di Conspeed dove potete configurare praticamente per ogni canale quindi ogni pedale che si attivi la vibrazione in base a una tipologia di evento quindi come dicevo l'ABS sul freno voglio che si attivi quando si attiva l'ABS lo stacco della frizione sulla frizione questo è qualcosa veramente di fantastico il pedale della frizione quindi a questo punto ne parliamo è dotato di un sensore all non contact fornisce in tempo reale e con precisione la posizione del pedale il sensore di all ragazzi è utilizzato spessissimo proprio per la sua precisione e qui è un non-talk contact quindi penso di ultima generazione che fa veramente un ottimo lavoro ma tornando alla frizione c'è la parte meccanica che è davvero un concept a parte stiamo parlando di un semi arco d'accordo formato da una molla superiore collegata a un cilindro con una molla in precarico che insieme lavorando in armonia insieme riescono a fornire un punto di staccata al piede come se fosse una macchina vera è incredibile io ho avuto questa sensazione spettacolare e in più con il precarico si può regolare in base a quelle che sono le vostre esigenze dico veramente chapeau come dicono i francesi a conspite perché per me è una delle migliori frizioni che ho mai provato fino adesso magari ce ne saranno altre ma questa è assolutamente la migliore che io abbia mai provato quindi bravissimi bravissimi veramente non ho nulla da aggiungere sulla frizione solo per dirvi che mi ha fatto tornare la voglia di girare con il cambio ad H e questo vuol dire tanto l'acceleratore è un acceleratore comune ragazzi che ha un cilindro anch'esso con una molla di precarico non voglio entrare nei dettagli ragazzi come al solito però ha un ottimo feeling anche lui anche l'acceleratore si può regolare con il famoso perno per avere durezza o meno più il precarico della molla insomma c'è una bella possibilità di regolazione a livello di sensibilità anch'esso ha presente un sensore di all non contact quindi una precisione ottima e in più sempre tramite il software con speed proprietario si possono gestire tutte le curve di tutti e tre i pedali ovviamente oltre che alla parte aptica come dicevo e poi si arriva al clou di quello che è la pedaliera stiamo parlando del freno il freno ragazzi presenta un sistema idraulico di ultima generazione lo studio che è stato fatto perché non è che se lo inventano ragazzi perché ovviamente c'è la parte della regolazione per l'escursione c'è chi preferisce avere un centimetro di escursione e chi magari preferisce averne cinque proprio per una questione di sensibilità e questo non lo fa solo con speed ma quello che fa con speed è questo sistema innovativo idraulico che c'è questo sistema innovativo di lavorazione dei tubi dove passa l'olio per dirci in cui è privo di turbolenze e di attriti che permette un controllo granulare senza precedenti devo dire la verità ragazzi mi ha convinto è un freno veramente che dà un feedback una sensazione davvero pazzesca mi ci sono trovato subito ragazzi ho provato tante pedaliere ce ne sono che sono fichissime questa però mi ha conquistato mi ha conquistato devo dire la verità questa sensazione del sistema idraulico alla fine fanno tutti la stessa cosa on off progressivo meno ci mancherebbe altro però come lo fa come lo fa ha fatto la differenza sarà mia cura ragazzi cercare di fare altri video per cercare di spiegare farvi vedere farvi capire questa questa pedaliera che veramente mi ha impressionato però un'altra cosa che mi ha colpito di conspit è la cura con il quale si occupa del design e questo ne ho parlato all'inizio ma c'è una cosa che non vi ho detto non si vedono cavi vero che è un cacamento di c***o da montare perché bisogna smontare tutto passare i cavi eccetera però è stato concepito in modo tale che la pedaliera montata non si vedono cavi e questo non lo fanno tutti non lo fanno tutti è una cosa che volevo specificare ancora una volta per sottolineare la cura con il quale conspit si è concentrata sui dettagli è una pedaliera ragazzi che mi ha convinto veramente e che se mi chiedono io la consiglio perché è in linea con i prezzi del mercato è un'azienda che comunque è all'ascolto abbiamo un rivenditore concessionario italiano e sono bravissimi li saluto di nuovo tz simproject e adesso ve lo posso dire mi ha talmente tanto convinto ragazzi che l'ho comprata l'ho comprata ragazzi non è che me l'hanno regalata l'ho pagata io ho detto non te la restituisco ragazzi non ve la restituisco me la tengo e adesso è montato sul mio rig quindi ragazzi sarà mia premura darvi altre informazioni cercherò di fare ancora dei video in merito a questa pedaliera che veramente mi sta sorprendendo per voi che mi seguite i ragazzi di tz simproject hanno creato un codice sconto che vi offre la possibilità di avere il trasporto gratuito per chi volesse ovviamente per chi volesse comprare una pedaliera e non solo vi ho lasciato il sito qui sotto in descrizione ci sono postazioni accessori eccetera eccetera e in più c'è anche il codice che vi fa risparmiare sul trasporto quindi ragazzi se il video vi è piaciuto pollice in su non esitate ad iscrivervi al canale lasciate un commento qui sotto noi ci vediamo prestissimo da Fabrice è tutto un abbraccio ciao